Parliamo di Smile 2, un film che esce oggi al cinema, in tutti i cinema, un film che è il sequel di questo film qua, Smile 1, qua, di cui ho la still book, voilà, voilà, opla, non so da che parte si guarda, mo cade tutto, mo cade, questo qua. Allora, Smile era un film che per farla brevissima non mi era piaciuto particolarmente nel suo complesso, secondo me era abbastanza così al limite, fa parte di tutta una serie di film horror, così un po' da, con questo imprinting da serie B, da film di puro intrattenimento horror, quindi un po' anche ingenui, eccetera, senza grossa profondità psicologica, ma nonostante avesse appunto questo aspetto, poi in realtà il film aveva delle componenti psicologiche che mi erano piaciute, quindi il risponso era stato, non è proprio un grande film, anzi, però ha delle cose interessanti dentro, quindi tra i film horror di bassa lega, ma comunque con forti budget e dirette al grande pubblico, comunque Smile qualche ideuzza ce l'aveva. Quindi io sono andato a vedere questo film sempre pensando che, Smile 2 appunto, l'ho visto ieri in anteprima stampa, pensando che avrei visto comunque un film che non capolavoro, ecco, però siccome ho visto il trailer mi sono detto, forse qua un'evoluzione c'è stata, siccome vengo da un altro film come Terrifier 3, che effettivamente ha fatto una grande evoluzione ed è migliore del secondo Terrifier e ovviamente anche del primo, mi sono guardato questo film senza grosse aspettative, ma neanche senza aspettarmi una cosa orribile. Intanto è diretto da Parker Finn e questo è il suo secondo film. Lui è scrittore, sceneggiatore e regista sia del primo che del secondo. Prima, se non erro, ha solo dei cortometraggi. Un giovane regista che torna con questa sua idea e la sviluppa questa volta. Il protagonista è una cantante pop che ricorda tantissimo Lady Gaga, per farvi un'idea, che ha un trascorso molto pesante perché ha avuto un particolare incidente che le ha causato un sacco di problemi. si sta riprendendo da questo incidente e, diciamo, come se non bastasse, no? Per continuare a piovere sul bagnato, entra in contatto con l'entità di Smile e quindi la sua vita si complica ulteriormente. Il film, sorprendentemente, mi ha divertito un casino. Mi ha divertito tantissimo. Per due ragioni, principalmente. Poi è un film che tecnicamente ha tantissime cose molto interessanti. Uno per la regia, che è una regia stupenda. E una regia, probabilmente, per le persone che amano solo il cinema sofisticato, è un po' troppo. Ma è talmente piena di virtuosismi e di idee che per me è stato stra divertente vederlo. È piena zeppa di idee. Me lo riguarderò volentieri perché, adesso che l'ho visto, diciamo, tutto insieme, voglio anche soffermarmi, visto che ora so già la storia e tutto, soffermarmi sulla quantità di idee a livello di ripresa, di movimenti di macchina che ci sono, ma anche di rappresentazioni scenografiche. Perché Smile 2 è un film estremamente coraggioso, che riesce a creare delle atmosfere inquietanti, quindi abbastanza spaventose per chi è alle prime armi. Purtroppo, come in tutte le situazioni in cui uno osa, purtroppo ogni tanto strafa, quindi qualcosina di un bel po' sopra le righe, che tocca un po' il trash, ma questo è un film horror di intrattenimento che non si prende sul serio. Questo non vuol dire che sia un horror comedy, perché in realtà è molto drammatico, è pieno di dramma. La protagonista ha una storia che non vi voglio dire, che si intreccerà con la nuova sfiga. La nuova sfiga è incontrare il demone di Smile. E come raccontato, devo dire che il film è stato capace di creare tante piccole situazioni che generano diverse emozioni, che possono essere curiosità, angoscia, paura, suspense, straniamento, perché alcune cose sono talmente grottesche che appunto possono piacere o possono anche magari far pensare che questo film sia ridicolo. Io però sono convinto che questo film, per quanto appunto abbia questa particolarità, per cui esagera talmente tanto che probabilmente una parte di pubblico che appunto si sente più sofisticata, le vedrà come cose che diciamo penalizzano il film. In un certo senso un po' lo penalizzano, però è un film che si diverte, che diverte. Gli amanti dell'horror, ovviamente. Ma attenzione, perché anche la storia non è così vuota. Se voi andate a prendere tutti i film di questo livello, quindi i vari Megan o piscine infestate, cose del genere, sono pieni zeppi di cliché, sono pieni zeppi di cose trite e ritrite, noiose, di cui sappiamo già come va a finire. Invece in questo film, che comunque ovviamente dentro di sé porta dei cliché, perché se no non sarebbe un horror, c'è qualcosa, c'è, il demone c'è, c'è un passaggio del demone, perché sono delle cose che abbiamo già visto, però è capace di raccontare qualcosa che incuriosisce, di cui vuoi sapere cosa accade, cosa accadrà. Attenzione, perché si parla di un film di due ore e qualcosa, due ore e cinque minuti, due ore e sette minuti. Due ore e sette minuti e non mi sono annoiato, perché c'è una storia e perché è raccontata un po' alla volta, riesce a tenerti lì e a vedere che cazzo capita. E ne capitano di tutti i colori, è una roba pazzesca. Quindi rimane comunque un film tra virgolette di bassa lega, ma con una grandissima qualità cinematografica, una sceneggiatura che fila, un contenuto che c'è, un horror che funziona, a volte mescola diverse tipologie di modi di fare horror, a volte sembra di vedere qualcosa di molto moderno che potrebbe anche non piacere, tipo i cortometraggi horror che spopolano su YouTube. Altre volte invece è più classico, altre volte c'è tutto qua dentro e per questo gli dico che è uno spasso assoluto. Va preso con lo spirito giusto, con lo spirito di un film horror che deve puramente intrattenere, che porta anche qualcosina il lato dramma, lo vedo come un equivalente di Terrifier, anche Terrifier è un film che nel suo genere funziona. Quindi a me è piaciuto, se vogliamo parlare della regia di questo film ne abbiamo tantissime di cose da dire, potremmo passare un'ora e mezza a guardare scene su scene incredibili, incredibili. Il regista a livello di idee non sta mai fermo. Non so come sia possibile perché è lo stesso regista di Smile 1 che, ripeto, io ci avevo visto qualcosa di buono ma comunque il risultato finale non era sufficiente secondo me per essere valutato come qualcosa di accettabile. Questo film, anche grazie all'interpretazione di Naomi Scott che è la protagonista, purtroppo l'ho visto in doppiato e voglio troppo vederlo in lingua originale, lo rivedrò sicuramente questo film lo rivedrò volentieri proprio perché voglio rivedere tutte le scelte registiche che ci sono. È aiutato anche da Naomi Scott che sembra partire come veramente un'attrice così che è stata messa lì a caso e alla fine del film rimane a bocca aperta per l'interpretazione che porta. Per questa ragione il film è difficile da valutare. Ha delle cose che vanno fuori dalla grazia di Dio, vanno fuori da sono veramente alcune cose sono trescissime, altre cose sono appunto non lo so un modo di raccontare l'horror non convenzionale mescolando un po' di tutte queste tecniche un po' di tutti questi generi. Quindi sì i cliché ci sono però appunto è un film godibile secondo me io lo valuto come più che sufficiente quindi un 6 e mezzo se lo piglia tutto lo so che di solito io non do i voti però voglio farvi capire che se l'altro non arrivava a 6 nonostante qualche ideuzza questo il 6 lo supera abbondantemente e arriva a 6 e mezzo minimo però al contempo sono certo che questo film dividerà il pubblico perché va visto senza aspettative e per la sua follia e anche per la sua stupidità ogni tanto perché io ho proprio l'impressione di vedere un film non lo so che si diverte un po' a sorprendere anche con delle cose assurde quindi aspetterò che anche di confrontarmi meglio con voi su questa su questa opera sono molto convinto che il regista abbia un grande potenziale a me è piaciuto a me è piaciuto